Sì, abbiamo sentito oggi un po' tutte le opposizioni e le abbiamo viste sulla vicenda di Sea-Watch 3 e anche sulle altre questioni. Ma il vento che spira del Paese non è cambiato rispetto alle scorse settimane. Infatti se andiamo a vedere il nostro sondaggio, anche oggi la Lega è molto avanti, riguadagna 1,1%, è al 32,6% ed ha 7,7% di vantaggio sul Movimento 5 Stelle che come vedete perde lo 0,8% ed è al 24,9%. Il Partito Democratico a sua volta perde lo 0,7% al 17,2% e anche lo 0,5% perde Forza Italia all'8,1%. Fratelli d'Italia riguadagna un decimale, 4,5% per il partito di Giorgia Meloni. Più Europa che ha tenuto nei giorni scorsi il suo congresso e che ha scelto come segretario Benedetto della Vedova è al 2,9%, perde 1,0,1%. Perde 1,02% il conglomerato, come vedete, di quella che è stata liberi, uguali e unitaria, al 2,6%, potere al popolo 2,4%. C'è un 1,2% che viene accreditato dal sondaggio di SVG ai Verdi. Ma c'è una domanda che abbiamo fatto alle persone interpellate, al campione demoscopico scelto da SVG. Che ne sarebbe elettoralmente del listone che è stato lanciato in vista delle europee da Carlo Calenda, in cui dovrebbero confluire nelle aspettative il Partito Democratico, una parte di ciò che sta alla sua sinistra e anche più Europa. Secondo il sondaggio, come vedete, la stima dei consensi alla lista unitaria Siamo Europei, con PD più Europa, Verdi, Italia in comune e liste civiche, sarebbe tra il 20% e il 24%. Se mi posso permettere, non molto distante da quella che è la somma delle percentuali che abbiamo visto nel nostro sondaggio per queste forze.